Piazza Dante a Teramo. Da oggi meno 20 stalli. Parte il piano di graduale pedonalizzazione del comune previsto dal progetto iniziale approvato dall'allora Giunta Chiodi che permise la costruzione di un megaparcheggio sotterraneo per rendere libero dalle auto il piano arraso della piazza. Da allora sono passati 12 anni e i terramani si sono abituati a questi comodi parcheggi che però sarebbero dovuti sparire già da un decennio. Si comincia solo ora tra i mugugni dei commercianti e dell'opposizione che critica l'amministrazione d'Alberto per la mancanza di programmazione o di alternativa alla soppressione degli stalli oggi 20 ma in breve tempo oltre 100. Meno 20 stalli qui a Piazza Dante. La piazza sembra respirare un pochino di più ma voi siete veramente contrari a questo togliere i parcheggi? Allora io non sono, parlo della mia persona, non è contraria alla pedonalizzazione della piazza però bisogna farla con una programmazione e una condivisione. Il comune questa cosa, questi due passaggi non l'ha fatti per niente nel senso che se tu levi gli stalli gli devi dare un'alternativa in un'altra zona vicina per dare la possibilità alle persone di parcheggiare e invece non è stata fatta. Poi ricordiamo che il commercio a Teramo già è sofferente, se noi andiamo a togliere in questo periodo storico di pandemia, di crisi economica, il commercio diminuisce gli introiti ancora di più perché la gente preferisce andare altrove perché trova parcheggio e perché trova tutta una situazione di servizi più comodi. E se non fosse possibile ricreare tutti gli stalli persi, Corona suggerisce per esempio la creazione di un bus navetta che dai parcheggi San Gabriele e San Francesco faccia la spola con Piazza Dante. Però questo era un vecchio progetto, questa piazza doveva essere pedonalizzata già da tempo, ecco dove recuperiamo 100 parcheggi? Questo è il problema e non ti posso dare torto che tutti questi anni non c'è stata ecco appunto una programmazione seria su come sanare questa situazione. Per l'amministrazione comunale di Teramo la pedonalizzazione di Piazza Dante non solo risponde all'obbligo delle clausole del progetto iniziale ma va anche nella direzione di rendere l'aria più salubre visto che il capoluogo a Prutino è tra le 13 città italiane più inquinate. Dunque si parte con divieti e fioriere ma il Terramano resiste. Nonostante i divieti, nonostante le nuove fioriere, a Piazza Dante a Teramo si continua a parcheggiare perché alla maleducazione non c'è fine.